Costruiti dai nostri magici antenati molti secoli fa, i labirinti del verde prato magico di Fantasia sono un panorama da ammirare. Wow! Sono magnifici! Sarebbe il miglior posto al mondo per giocare a nascondino. Dopo andiamo al prato magico. Potrebbe essere importante. Meglio che resti ad ascoltare. Antichi labirinti fatti di pietre magiche, rocce e sier... Non ne sono sicura. Non vorrei perdermi là dentro. Rose! Rose! Dove sei? Will! Da questa parte! Sbrigati, Will! Sbrigati! Non avere paura, Rose! Ti troveremo!